Eccomi, sono qui per accompagnarvi alla scoperta di Horizon. Informazioni commerciali, analisi di portafoglio, pianificazione finanziaria, tanti strumenti sempre a portata di un click, da sfruttare al meglio. Il portale è stato suddiviso in tre principali sezioni, il mondo finanza e futuro, la mia scrivania e il cliente in un click. Proprio come il metodo di lavoro di un consulente finanziario, informarsi, analizzare i dati, gestire la relazione con il cliente. Andiamo a dare un'occhiata. Nella home page trovate subito tutte le informazioni utili, organizzate in modo chiaro e ordinato, come le novità dell'offerta commerciale, le research dell'investment center e le ultime circolari. Fin dal primo sguardo siete subito informati e pronti a partire. Anche nel mondo finanza e futuro vi attendono grandi novità, una sezione prodotti completamente nuova e dinamica. Grazie alla partnership con Blue Rating, le schede tecniche sono arricchite di indici, performance e grafici sempre aggiornati e disponibili. Da qui potete in un attimo entrare nell'area alla mia scrivania, praticamente il vostro ufficio. In primo piano il cruscotto PF, dove sono raccolti tutti i dati fondamentali per il vostro lavoro quotidiano. Come sul cruscotto di un'auto avete sempre davanti a voi tutti gli indicatori che vi permettono di valutare al meglio il vostro portafoglio e l'andamento dei dati più significativi. E in più gli alert automatici vi offrono spunti e suggerimenti per essere al fianco dei vostri clienti, sempre nel momento più opportuno. E ora usciamo dal vostro ufficio virtuale per incontrare il cliente in un clic. Da qui potete gestire le relazioni commerciali visualizzando immediatamente tutte le informazioni patrimoniali e anagrafiche del singolo cliente. Avete a disposizione una formidabile memoria per dare le risposte ai clienti ancora prima che vi facciano le domande. E in più è facile analizzare il portafoglio e guidare il cliente con l'innovativo 360 in un percorso di consulenza e pianificazione finanziaria. Con una navigazione fluida e senza interruzioni sarete sempre all'interno del portale dall'analisi del portafoglio fino all'inserimento degli ordini. Tante novità che cambieranno la vostra attività.